Beh, diciamo, è possibile ma non probabile che nei primi tre voti in cui c'è una maggioranza qualificata si possa concludere con la scelta di una persona. Possibile e non probabile neanche se fosse Draghi? Guardi, se non ricordo male sono solamente due i presidenti che sono stati eletti alla prima votazione, quindi ci vorrebbe una maggioranza veramente molto alta. Dalla quarta diventa non solo possibile ma anche probabile la scelta di un presidente.